Come essere carismatici, la scienza e le strategie della simpatia. Tutti abbiamo visto il leader in prima fila, quello che tiene in pugno il pubblico, suscitando risate e lacrime e facendo sì che tutti si sentano stimolati, ispirati e motivati. Anche se possono essere esperti nei loro campi, la competenza da sola non spiega la reazione entusiasta che suscitano negli altri. Influencer come questi hanno una qualità invidiabile, il carisma. Alcuni sembrano esserci nati. Ma il carisma si può imparare? È possibile sviluppare la simpatia attraverso una pratica mirata? Ecco cosa ci dice la scienza su cos'è il carisma e come si può costruire la propria versione di queste potenti abilità umane. Che cos'è il carisma e perché non si dovrebbe fingere? I ricercatori hanno studiato gli effetti del carisma per decenni, ma pochi studi hanno cercato di individuare le caratteristiche specifiche che le persone intendono quando dicono che qualcuno è carismatico. Uno studio del 2018 ha ristretto il campo a due caratteristiche, l'influenza e l'affabilità. I ricercatori hanno definito l'affabilità come un approccio emotivo. Le persone affabili sorridono spesso, vanno d'accordo con un'ampia gamma di personalità e fanno sentire gli altri a proprio agio. L'influenza, invece, è una sorta di magnetismo, la capacità di attirare l'attenzione in un ambiente. Una persona influente può assumere responsabilità di leadership ed è considerata persuasiva. Le persone carismatiche di solito condividono queste caratteristiche. Trasudano calore e senso di competenza. Hanno forti capacità sociali e comunicano bene sia verbalmente che non verbalmente. Spesso dimostrano un comportamento leggermente anticonvenzionale. Sono simpatici. Ecco la buona notizia. Per essere veramente carismatici non è necessario essere degli estroversi da festa. Potete imparare a diventare più carismatici nelle vostre interazioni sociali e professionali anche se vi descrivete come goffi, introversi o semplicemente timidi. Secondo gli esperti di scienze sociali, una chiave potrebbe essere quella di capire quali sono i contesti in cui vi sentite più a vostro agio. Non tutti riescono a essere calorosi e coinvolgenti nei bar affollati o alle feste. Se riuscite a essere più autentici in un corso di cucina o in un caffè di una libreria, fate in modo che questi luoghi diventino i vostri punti di riferimento per la conversazione. Costringersi a fingere in situazioni che sono intrinsecamente stressanti probabilmente non vi renderà più simpatici. Anzi, rischiate di essere percepiti come inautentici. Come essere più carismatici. Alcuni scienziati comportamentali affermano che è un mito pensare al carisma come ha una caratteristica intrinseca. Per aumentare la vostra presenza, il calore percepito e la vostra simpatia, incorporate queste abilità nel vostro stile di comunicazione. Sorridere di più Questa direttiva può essere problematica, soprattutto per le donne abituate a sentirsi dire di sorridere dagli sconosciuti nei luoghi pubblici. Ma la scienza è chiara, le persone leggono il sorriso come un invito ad avvicinarsi. Quindi, se volete che le persone si sentano accolte e provino un senso di appartenenza nei vostri confronti, permettetevi di sorridere in modo genuino, uno di quei sorrisi davvero caldi che arrivano fino alle rughe vicino agli occhi. Guardare le persone nei loro bellissimi occhi. Qui è necessario un po' di contesto. Ci sono situazioni in cui uno sguardo diretto può essere percepito come minaccioso, ad esempio, un contatto visivo mentre si passa accanto a uno sconosciuto in un vicolo buio. Nel complesso, tuttavia, guardare qualcuno negli occhi invia il chiaro messaggio che si sta prestando attenzione. I ricercatori Trusted Source hanno scoperto che guardare qualcuno direttamente attiva la parte del cervello associata alle ricompense e all'inclusione sociale. Negli studi, guardare qualcuno negli occhi rende più probabile che le persone vi considerino attraenti, competenti e simpatici. Se state cercando di aumentare il vostro carisma, lo sguardo diretto offre grandi ritorni sul vostro investimento. Tenete le mani in vista e usatele per aiutarvi a parlare. I gesti delle mani non sono solo sbattimenti senza senso. Sono, da soli, una strategia di comunicazione molto efficace. Sono particolarmente potenti se usati per sottolineare, evidenziare o rappresentare le idee che state comunicando. I gesti delle mani sono visivamente accattivanti e, se usati per enfatizzare il significato, approfondiscono la comprensione. In effetti, le stesse parti del cervello che interpretano il parlato elaborano anche il significato dei gesti delle mani, forse perché gli esseri umani hanno comunicato con i gesti molto prima di esprimere le idee con le parole. Quindi, quando si è in riunione, virtuale o di persona, è bene tenere le mani in vista, su un tavolo o una scrivania, per inviare un segnale sottile di fiducia e onestà. Ed è un'idea ancora migliore lasciare che siano le mani a parlare il più spesso possibile. Ammettete le vostre stranezze. In un'epoca di meme e di selfie sempre più simili tra loro, l'individualità è una ventata di freschezza. Se vi trovate in un ambiente in cui sarebbe così facile ricadere in chiacchiere prevedibili e sicure, prendete in considerazione l'idea di fare domande che sorprendano le persone. Nel suo libro Captivate, la scienziata sociale Vanessa Van Edwards consiglia di porre domande come queste, per suscitare conversazioni interessanti. A quale progetto di passione personale stai lavorando in questo momento? Qual è stato il momento più importante della sua giornata? C'è qualcosa di eccitante in arrivo nella tua vita? I ricercatori hanno scoperto che quando le persone si aspettano uno schema prevedibile, l'improvvisa comparsa dell'insolito scuote i centri di apprendimento e memoria del cervello. Viene rilasciata la dopamina, sostanza chimica del benessere, e seguono due azioni, il cervello codifica l'esperienza nuova per memorizzarla e i suoi centri di ricompensa spingono a cercare altre esperienze simili. Se volete che le persone si ricordino di voi, è una buona idea iniziare a incuriosirle. Accogliere la vulnerabilità. Esprimere vulnerabilità, che si tratti di ammettere qualcosa di leggermente imbarazzante o di confessare una preoccupazione segreta, può rendere le persone più inclini a entrare in contatto con voi. Rendervi vulnerabili non significa che avete versato il vostro cuore prima che arrivino gli antipasti. Significa che siete aperti a condividere un dettaglio di voi stessi che rivela la vostra umanità. I ricercatori hanno scoperto che quando i leader riconoscono le proprie imperfezioni, aumentano la connessione e la compassione dell'intero gruppo. E le persone tendono a considerare questi leader come carismatici. Ascoltare con tutto il cuore. Spesso si descrive il carisma come un'eccezionale capacità di comunicare un obiettivo o una visione ispiratrice a un gruppo di persone. Ma il carisma di tutti i giorni non è necessariamente una comunicazione unidirezionale, dall'alto verso il basso. Si tratta di essere pienamente presenti e reattivi nelle conversazioni a due. Se volete che le persone si ricordino di voi, ascoltate. Ascoltate davvero, senza interrompere, controllare il telefono o riportare la conversazione su di voi. Il vostro interlocutore, che siate a un appuntamento o a una riunione di azionisti, parla con il linguaggio del corpo, le espressioni del viso, il tono di voce e le parole. Incuriositevi di ciò che sta dicendo. Se notate un'ondata di paura o un guizzo di rabbia, fate domande per saperne di più. L'interesse genuino per gli altri è convincente. I ricercatori hanno scoperto che ascoltare con calma, con la massima attenzione e senza giudicare, fa sentire le persone curate, apprezzate e rispettate. Dite il loro nome. In uno dei libri di autoaiuto più venduti di tutti i tempi, come Conquistare Amici e Influenzare le Persone, l'autore del Carnegie ricordava ai suoi lettori che le persone amano sentirsi chiamare per nome. E la neurologia conferma l'affermazione di Carnegie. Quando i ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per tracciare le risposte, hanno scoperto che diverse parti del cervello si accendevano quando le persone sentivano il proprio nome. Durante una conversazione, assicuratevi di pronunciare il nome dell'altra persona, soprattutto quando è il momento di salutarla. Se state presentando qualcuno, pronunciate il suo nome e menzionate uno dei suoi risultati, come ad esempio, questo è Josh. Si sta allenando per l'Ironman. Trovate la reciprocità. Il carisma si basa tanto sulla connessione quanto sulle impressioni. Quando interagite con le persone, cercate esperienze, idee e relazioni comuni. Forse guidate la stessa auto, tifate per la stessa squadra o condividete una strana fobia. Quando trovate qualcosa in comune, non abbiate paura di fare domande o di approfondire. Un legame autentico non è frutto di un momento. Creare un legame con un'altra persona è un atto di coraggio e il vostro corpo vi ricompensa per aver fatto questo passo coraggioso. Durante le interazioni sociali vengono rilasciate potenti sostanze neurochimiche, tra cui dopamina, serotonina e ossitocina. I ricercatori pensano che la ricompensa per il legame sociale si sia evoluta perché la sopravvivenza potrebbe dipendere dalle interazioni sociali di gruppo. Esiste un lato oscuro del carisma? La risposta breve è sì. La storia dell'umanità è piena di leader carismatici che hanno portato la gente fuori strada. Il carisma è semplicemente un insieme di abilità che possono essere utilizzate per ottenere amicizie, alleanze o denaro, o per raggiungere obiettivi, siano essi nobili o diabolici. I ricercatori sono sempre più interessati agli effetti negativi dei leader carismatici sulle organizzazioni di vario tipo. Se state modellando le vostre capacità sulla base di quelle di un leader che avete osservato, potrebbe essere una buona idea dedicare un po' di tempo ad analizzare la salute generale dell'organizzazione prima di adottare un particolare stile di leadership. Un elenco di letture per iniziare. Se desiderate approfondire la scienza e l'arte del carisma, potete leggere questi libri. Captivate, la scienza del successo con le persone di Vanessa Van Edwards. L'introverso irresistibile, sfruttare il potere del carisma silenzioso in un mondo rumoroso di Michaela Chung. Il mito del carisma, come chiunque può padroneggiare l'arte e la scienza del magnetismo personale di Olivia Fox Cabane. Il punto di partenza. Il carisma può sembrare un dono o un tratto intrinseco della personalità, ma molti scienziati comportamentali ritengono che possa essere appreso. Alcuni ricercatori sostengono che il carisma dipenda dalla vostra affabilità, capacità di approccio emotivo, e dalla vostra influenza, capacità di muovere o motivare gli altri. È probabile che gli altri vi considerino carismatici se sorridete spesso, li guardate negli occhi, comunicate con le mani e pronunciate spesso il loro nome. Gli altri vi troveranno più simpatici se riuscirete a stabilire un legame con loro ascoltandoli con attenzione, se saprete riconoscere le vostre peculiarità e vulnerabilità e se cercherete dei punti in comune con loro. Nel coltivare il carisma, è importante essere se stessi, anche se questo significa saltare eventi pubblici stressanti e optare per incontri più piccoli e intimi in cui si può comunicare efficacemente. Il carisma non può fiorire senza autenticità, senza una reale curiosità e interesse per le altre persone. Iniziate da qui e le persone vi troveranno irresistibili.